Mi è successo di nuovo. Questa mattina mentre facevo colazione mi è venuta un'idea brillante, qualcosa di cui parlare nei tre minuti grezzi. Naturalmente era una cosa così ovvia, così vicina al mio vissuto che non ho nemmeno ritenuto opportuno prendere una nota. E adesso, pomeriggio, mi ritrovo qua e non mi ricordo naturalmente di cosa si trattasse. Non ho nemmeno idea di quello che sarà l'argomento di questi tre minuti grezzi, quindi descrivo la situazione. Sono nel mio studio e il mio studio da quando abbiamo comprato il letto sopraelevato di Ikea, il mio studio si trova al di sotto del mio letto. Per il lavoro che faccio è ottimo perché mi crea una barriera costituita dal materasso sopra la mia testa, quindi assorbe molto bene i rumori, è lontano dalla finestra, è chiuso, racchiuso, socchiuso. Sto pensando addirittura di prendere, comprare, cercare, ho visto che ci sono in giro delle tende, anzi no, si dice fono assorbenti, creare una specie di teatrino, un'alcova. Quindi quando devo registrare, vabbè, quando faccio i tre minuti grezzi lo faccio all'aria aperta, di solito quando faccio cose serie vado nella mia cabina armadio che è già stata rivestita con materiale fono assorbente. Però potrei mettere anche delle tendine qua, anche se poi mi tolgono un po' di luce, per me la luce è molto importante. Non è certo la luce a mancare in questa casa, siamo al quarto piano e siamo molto esposti alla luce ma anche al vento e alle intemperie e a tutto quello che consegue. Quindi dicevo sì, questo mio angolo studio con un bel tavolo lungo 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 lungo, il computer è grande ma c'è anche spazio per mettere il computer piccolo. E poi ho acquistato, sapete le lucette che, vabbè, adesso per Natale le usano tutti ma io le ho acquistate quest'estate. Lucette che si ricaricano con l'energia solare e ho messo il ricaricatore che ha un filo lungo lungo nel vetro, quindi si ricaricano durante la giornata e poi, magia delle magie, di notte, automaticamente mi si accendono le lucette in camera da letto, sotto il letto, attorno al mio spazio lavoro. Ho comprato le stesse lucette anche per il balcone e anche lì si accendono automaticamente, magicamente ogni notte e mi tengono compagnia. Ripeto, non ho aspettato Natale per farlo, siamo nel periodo prenatalizio e quindi è tutto un susseguirsi di negozi con luci, lucette, cascate. Ora usano molto le cascate di luci. Dai, l'abbiamo sfangata anche oggi coi tre minuti grezzi. Passo e chiudo.